Dal 1 settembre è operativo il servizio di controllo elettronico della velocità mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura in movimento denominata Scout Speed. È montata su un'autovettura di proprietà del libero consorzio comunale di Ragusa facilmente riconoscibile ed individuabile. Il servizio nasce dall'esigenza di rendere più sicure le strade provinciali con uno strumento nuovo costituito da un sistema di telecamere e sensori che garantisce il controllo su tutti i lati del mezzo di pattuglia e sono in grado di riprendere filmati e scattere fotografie georeferenziate delle targhe dei veicoli che commettono infrazioni. Lo Scout Speed cercherà di far rispettare i limiti di velocità e a differenza di autovelox fissi e mobili che verificano l'andatura istantanea al passaggio dei veicoli in un determinato punto e dei tutor che misurano sia quelle istantanea al passaggio sotto di un portale sia quella media tra i due l'avanzato dispositivo è in grado di rilevare l'andatura di tutti i veicoli intorno alla pattuglia in movimento o ferma anche di quelli che procedono nel senso di marcia opposto con un raggio d'azione di 360 gradi e ancora a differenza dei primi due sistemi poi la cui operatività deve essere segnalata da opportuni cartelli e la cui presenza indicata per scopi educativi dalla stradale su internet sul sito www.poliziedistato.it la presenza a bordo dello Scout Speed non deve essere segnalata agli utenti della strada. Grazie a tutti!